Grazie per supportare il nostro canale. Gio gli dedica un video in cui sono racchiusi i momenti più belli della loro storia d'amore, nata nella casa del GF VIP. L'influencer italo persiana stupisce Pierre e gli intenerisce il cuore. Lui guarda le immagini che Giulia ha messo insieme per augurargli buon compleanno e cede. Non può rimanere impassibile o indifferente, così non trattiene le lacrime. La dedica della Salemi è appassionata, intensa. Allo scoccare della mezzanotte del 31 luglio la bella Mora 28enne gli fa vedere il breve filmato in cui, con tante immagini, si ripercorre la loro relazione. Fratelli impazzisce di gioia. Il suo pianto mette a nudo i suoi sentimenti. Giulia Salemi immortala il momento e lo condivide con i fan e le sue IG di Stories. La reazione di Pierre a mio ultimo video, due babbi in lacrime, capite perché io sono pazza di lui e lo amo così tanto, scrive la ragazza. Giulia scrive una lunga lettera al ragazzo che ama. Amore mio, questa volta tocca a me. Quindi adesso siediti e ascolta. Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa, che noi conosciamo molto bene, quale fosse l'ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto. Senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente tu oggi con me, gli confessa. Sì, perché nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti. Hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita. Sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta continua l'influencer tu mi rendi felice Pierre. Ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d'amore così intensa. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di due ore. Siamo attaccati al cellulare come due adolescenti. E ancora, non abbiamo mai smesso di guardarci come le prime volte ed io amo quando ci guardiamo senza dirci nulla. Amo i nostri risvegli e quando restiamo a letto avvinghiati come se avessimo sempre paura di perderci. Amo quando mi canti Cesare 200 volte solo per vedermi sorridere mentre lo fai. Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita. Avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo. Grazie per sopportare ogni sbalzo d'umore, per rassicurarmi ogni volta che mi sento inadatta e farmi sentire la più brava. La più bella, come un vero fan. Accanto a te sto imparando ad amarmi, ad amare anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questa sia la cosa più bella che l'amore possa farti, gli sottolinea la Salemi. Poi conclude, sono fiera di quello che stai costruendo e raggiungendo per il tuo futuro e felice di condividere insieme a te i momenti più felici. Punto come questo compleanno, che spero sia solo il primo insieme. Ti amo tanto, Giulia. Ciao.